Sono molto fiera che facciate questo viaggio, vi divertirete moltissimo. Oh, mi raccomando, se qualcosa vi insegue, scappate. Giorni bollenti questi per gli appassionati della saga di Jurassic Park, ideata da Michael Crichton e celebrata dall'indimenticabile film di Steven Spielberg del 1993. Dopo due teaser trailer, ecco che arriva il full trailer di Jurassic World. Il film torna a raccontare del parco di John Hammond su Isla Nublar, 22 anni dopo il disastro della prima pellicola. Protagonista Chris Pratt nel ruolo di Owen, Bryce Dallas Howard, in quello di Claire e molti altri. Non mi sembra una buona idea. Il muro è alto 12 metri, può averlo scavalcato. La pellicola arriverà nelle sale il 12 giugno del 2015 e potrebbe effettivamente riportare in vita il franchise lasciato in rigor mortis dall'ultimo Jurassic Park 3 del 2001 e le promesse ci sono tutte. Ucciderà tutto quello che si muove. Oddio. Correte!